1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 11 12 13 14 15 15 16 16 17 15 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 16 16 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 15 25 35 25 25 5 6 6 Oh Dio che lì finisce la persona E' un po' più facile E' un po' più facile E' un po' più facile 2 No scusa 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 13 14 14 14 15 5 6 ultima 1 1 1 1 e ho detto basta quella cosa lì salta e fascia il contro 1 2 3 4 5 5 6 5 6 9 10 10